Buongiorno a tutti i testatori di TG Sport In questa edizione parleremo di un gruppo di ciclisti che in sede alle dora o mountain bike attraverseranno i tre confini di Italia, Svizzera e Austria Ma ora passiamo la linea ai rossi intrepidi eroi Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 e a tutti! Grazie 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 a tutti!